Che c'è? Ah, ho capito! Mmm, buono! Jessica, ma oggi Robertina non si è proprio vista in giro? Robertina? No, è tutto il giorno che non la vedo, infatti è strano. Ma, ragazze, cosa state dicendo? Eccomi! Oh mio Dio, non mi dire che è successo. Oddio, che stai dicendo, Laura? Mi stai facendo preoccupare. Oddio, ma queste sono rincoglionite. Ragazze! Praticamente, ieri notte stavo guardando quel programma di magia che trasmettono. Ieri parlava di far scomparire gli oggetti e stamattina, mentre Robertina faceva colazione, ho provato a fare su di lei quella sorta di incantesimo ed è sparita. Lo sapevo che bisognava farla solo sugli oggetti e non sulle persone, perché se no la sparizione è permanente. Mo chi glielo dici a mamma? Non mi dire, mo! Oddio! Non mi vedono più! Sono diventata trasparente! E adesso? Adesso mi toccherà di do a mamma! E che sa come la prenderà! Io? No, no, assolutamente! Ma tu sei pazza! Al massimo inventiamo una scusa, che ne so, che è uscita fuori a gettare la spazzatura e non è entrata più in casa. La mia mamma non mi vedrà più! Non mi potrà comprare più i tanti giochi! Sempre per colpa tua, stupida! Oddio! E ora come si fa senza quella piccola peste viziata? Ti volevamo bene, Robertina! Ovunque tu sia, in questo momento ti volevamo bene! Ti volevamo bene! Sì, sì, sì! Beh, se sono trasparente, questo non lo sentirà! Aia! Ma sei pazza! Cos'è? Non ha funzionato l'incantesimo! Ti faccio vedere io come scomparirai non appena lo sappiamo! Ora te la faccio pagare, vi dico! Ma! Hai scappa, Roberta? Grazie a tutti!